Sono sette gli emendamenti proposti dal Partito Democratico al bilancio comunale di previsione 2016. A sottoscrivere i documenti è il gruppo consigliare al completo con i consiglieri Alessandra Ascia, Vincenzo Cirignotta, Salvatore Gallo, Romina Morselli e Carmelo Orlando. Consigliare il Partito Democratico con i sette emendamenti punta a due fattori fondamentali. Uno, il decoro urbano destinando un milione di euro per il piano colore e un milione e 750 mila euro invece per i più deboli. Sì, il decoro urbano, quindi diamo la possibilità ai proprietari degli immobili di rifare i prospetti e anche contemporaneamente diamo la possibilità a tanti artigiani locali di lavorare. E dopo il sociale, in un contesto di crisi economica riteniamo il rafforzamento delle politiche sociali prioritario. Diamo soldi, pensiamo di aiutare e quindi allargare la platea di beneficiari per quanto riguarda gli anziani, i disabili. Iniziativa a favore dei soggetti autistici. Soldi per le famiglie in difficoltà. E poi pensiamo di mandare a lavorare altri 300 padri di famiglia che non hanno lavoro utilizzando lo strumento dell'assegno civico. Questi sono i temi fondamentali che con noi stanno a cuore. L'auspicio è che vengono accorti favorevolmente anche dagli altri gruppi politici. Da quale capitolo avete estratto queste somme e per quale motivo? Un settore, quello dei rifiuti, ed è da lì che noi intendiamo prelevare queste somme che ammontano a 2.750.000 euro. È da lì che intendiamo prenderli perché innanzitutto riteniamo ingiusto che si investa e si arricchisce di somme notevoli un settore che viene quello del servizio di raccolta dei rifiuti che è stato fortemente contestato rispetto al passato. Tutto noi ci potevamo aspettare tranne che ritrovarci oggi caricato nel programma 3 di questo bilancio una somma destinata al settore dei rifiuti di circa 4 milioni di euro in più rispetto alla somma individuata nel contratto d'appalto rifiuti originario. Non capisco come faremo, come faranno loro a spiegare alla città che nonostante questa arrogante e massiccia campagna di sensibilizzazione su come procedere alla raccolta differenziata dovrebbe corrispondere a questa campagna informativa un aumento della percentuale di raccolta differenziata e quando aumenta la raccolta di percentuale di differenziata dovrebbe diminuire il costo. La visione è quella di sostenere chi è rimasto indietro e più deboli a ridare il decoro alla città che è il programma che il Partito Democratico mette in gamba a tutti i livelli e che il Cintà vuole caratterizzare la nostra azione. Ora vediamo se l'amministrazione comunale sarà attenta alle nostre evidenze. Avete più volte anche sottolineato che il contributo di tutti i componenti del Partito Democratico che è stato preso in considerazione e che è stato fondamentale? Indubbiamente perché è stato un lavoro di squadra assieme ai consiglieri comunali e dai vostri microfoni vorrei lanciare un appello perché questi sono emendamenti che vanno nel senso del bene comune quindi chiediamo agli altri gruppi di poterli apprezzare e al limite anche di mettere la firma perché non è che vogliamo essere gli ispiratori assoluti. Io penso che sono emendamenti come diceva il segretario che vanno nell'indirizzo degli ultimi nell'indirizzo di cercare di mettere in moto microeconomie nel nostro comprensorio.